ciao a tutte ciao a tutti allora innanzitutto buona domenica a tutte e trucchettino veloce ho già messo l'eyeliner e ho usato questo della weibo ho iniziato dalla fine questa volta però ho visto che voglio usare questa palettina che è questa è una cosa un po particolare allora ho usato subito il l'eyeliner che è molto questo è un filiamo qualche un po più scurino che è questa qua sono quattro celline quindi una probabilmente non la userò perché sono tutti glitter quindi proprio glitter non intendo usarli perché non ha già è piuttosto diciamo abbastanza vedete abbastanza sberlucicoso questo così senza bisogno di poi l'ultimo qua marroncino che è stupendo l'ultimo qua direi che la parte oggi vado a mangiare con la mia mamma e a festeggiare il compleanno della mia sorella più piccola insieme quindi si sfumano benissimo secondo me proprio bene bene faccio questo lavoro metto il nero all'interno della rima e anche all'interno di quella sottostante lo sapete che di solito non lo metto mai però secondo me con questo tipo di trucco va molto bene ok adesso prendiamo sempre questo e cerco il pennellino sottile sottile ecco angolato sottile ed è questo lo mettiamo sul marrone e lo metto appena perché visto che c'è la riga e il liner lo metto appena sotto dalle ciglia proprio qui vedete perché c'è già l'eyeliner quindi non voglio mettere cosa su cosa cosa su cosa e anche sotto vuoi eccolo qua eccolo qua ecco qua spero che si veda cosa ho fatto dalla parte sotto uso questo pennello è un vecchio pennello della Kiko che però funziona benissimo era per dare l'eyeliner liquido io metterei ancora un pochino di questo perché come prevedevo non si vede più ho messo l'ombretto eccolo qua facciamo anche questa codina ok questo voglio mettermi due ciuffetti di ciglia finte ci sto pensando al massimo poi li aggiungo fuori dal video perché adesso devo cercarle e non voglio le mettere proprio per rinforzare queste però devo anche mettere l'eyeliner quindi deve essere una cosa di un po' di pazienza quindi non so questi sono niente le metterò fuori dal video però nelle foto che vedrete a fine video vedrete come sono riuscita a mettere i ciuffettini ciao a tutte buona domenica a tutte un bacione ciao 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 Grazie.